Buongiorno a tutti! Oggi siamo a pochi passi da via Quintinosella. Proponiamo un ampio e luminoso appartamento di quattro vani, libero e disponibile subito. Situato in una delle zone più centrali e ben servite di Bari, questo immobile è l'ideale per chi cerca comodità e spazio. Entrandoci accoglie un ingresso spazioso che introduce armoniosamente gli ambienti della casa. Continuando c'è un salone ampio e luminoso, con accesso a un balcone esterno che offre una piacevole vista e molta luce naturale. Accedendo dal corridoio troviamo tre camere da letto, con balcone interno e un ripostiglio, ideale per organizzare al meglio lo spazio. Una cucina abitabile grande e funzionale, con una veranda interna che offre un ulteriore spazio vivibile. Un bagno padronale ed ancora un secondo bagno, completo di lavanderia per una maggiore praticità. L'immobile è dotato di sistema di condizionamento e riscaldamento autonomo per il massimo comfort. L'immobile gode di una doppia esposizione che garantisce luminosità naturale. L'appartamento si presenta in condizioni originarie, permettendo così la possibilità di personalizzare e rinnovare gli spazi secondo i propri gusti. Non perdete l'opportunità di vivere in una delle zone più centrali e ben servite di Bari. Questo ampio appartamento è la soluzione ideale per chi cerca spazio comfort in una posizione strategica. Ciao, alla prossima!